e da cambio di lotta ripercorrendo il mio passato eccomi qui per ricordare il talent up sono qui al morgana victory di sanremo la mia partecipazione al talent up dove fui eletto personaggio piazza san siro e allora sono qui per ricordare il concerto del 2018 con la band è stato una è stata un'esperienza veramente straordinaria perché il mio primo concerto che ho sempre desiderato tanto nella città dei fiori e della musica per ricordare questa serata questa sera vi accenno un successone un tour un tormentone del di questa serata l'inedito adrenalina pura che dà il titolo all'album adrenalina pura adrenalina pura sono un missile un tornado una forza della natura sono un missile un tornado una forza della natura adrenalina pura adrenalina pura adrenalina pura sono un missile un tornado una forza della natura e da piazza san siro sono qui per ricordare un'altra location importantissima il teatro casino municipale di sanremo e allora ricordo nel 2019 prima che scoppiasse la questa crisi sanitaria e io ho fatto feci un concerto qui molto interessante un concerto di solidarietà a favore per l'associazione del neuroblastoma una serata decisamente interessantissima una serata bellissima con la band e ricordo veramente vi accenno una canzone di quella serata mai paura mai se la notte è fredda e scura scalderò le mani con la luce della luna ti ostacola il cammino poi finisci all'inferno mai paura mai se la notte è fredda e scura dal teatro casino municipale di sanremo qui in piazza bresca per ricordare un'altra tappa del mio percorso e quindi sono qui per ricordare le riprese del video stavo bene stavo male tema l'amicizia vi accenno un po' la canzone mi sentivo oscurato così o me ne sono andato così uniti così forti un'amicizia ogni orizzonte così uniti così vicini eccomi qui e per concludere sono al porto di sanremo il mare di sanremo il mare di monopoli mi ha portato fin qui perché io sono di monopoli è una città circondata dal mare come lo è anche sanremo sanremo mi ha dato tante opportunità il mare il mare non ha strade non ha spiegazioni il mare è come l'anima non fa silenzio mai nemmeno quando tutto tace e quindi dal porto di sanremo io vi saluto e auguro a tutti quanti voi tanta salute e speriamo che questo momento davvero finisca al più presto è un brutto periodo ma amici ce la faremo ne sono convinto grazie a tutti giuseppe pipoli in arte mister pipoli vi rinnova un appuntamento speciale qui a sanremo con la musica speriamo al più presto ciao figlia mia che mi vedi per la prima volta vorrei dire col tuo sguardo che la vita porta a quei tuoi occhi verdi di speranza posso fare solo la testimonianza di un mondo che non è perfetto per il quale ti darò il biglietto giulia rovina per il tuo mondo goditi ogni emozione che ti darà giulia rovina per il tuo mondo che trasforma che trasforma che ti darà che ti darà che ti darà viaggia e prova ogni emozione così troverai così troverai la tua collocazione vivi a pieno la tua vita che dalle tue scelte sarà definita in un mondo che non è perfetto per il quale ti darò il biglietto che ti darò che ti darò che ti darò giulia rovina per il tuo mondo giulia rovina per il tuo mondo goditi ogni emozione che ti darà giulia rovi viaggia nel tuo mondo che trasforma ogni lezione che ti darà giulia rovi non ferra il tuo mondo goditi ogni emozione che ti darà giulia rovi viaggia nel tuo mondo e trasforma ogni lezione che ti darà che ti darà